Allora Luciano, dove siamo oggi? Abbiamo deciso di fare un salto a Cuba per un aperitivo, niente di che, è una cosa molto tranquilla. Da Siviglia quindi siamo arrivati a Cuba, un giretto così. E anche l'Italia, siamo a Siviglia, festival delle nazioni, tutto il mondo in un parco. E' uno spettacolo unico. Thailandia, Grecia, lì abbiamo Argentina, e ancora qui Messico, India, Colombia, Russia, Venezuela, Sud Africa. Com'è questa atmosfera profumata? Profumata. Abbiamo qui la Germania. Con le loro birre. Stati Uniti, signori. Specialità da tutto il mondo. Per Tokyo ci va di qua. Per Tokyo da questa parte, io gli direi uno lulu però forse è meglio. Andiamo avanti, andiamo avanti, perché questa è la sezione culinaria. Ma c'è anche, ci sono anche i mercatini. Sempre da tutto il mondo. C'è tutto. Spettacolo unico. Meraviglioso. Buonanotte. 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 Grazie per la visione